un tutorial per studenti studenti che hanno un account abbinato la possibilità di raggiungere la classe dei loro docenti allora la prima cosa voi dovete andare su sinklink.com slash it slash edu allora voi potete approfondire è una delle cose che voi vedete che da qui abbiamo la possibilità di scaricare l'applicazione sia sul cellulare che sul tablet che vi dà ulteriori possibilità di creare allora iniziamo vi suggerisco di utilizzare la mail dell'istituto e di non abbreviare nell'iscrizione un password originale che vi ricordate e magari che l'avete scritto qualche parte messo a sicuro e poi di prendere il codice di invito dato dal vostro docente a questo punto potete creare l'account io ce l'ho già quindi io faccio sign in questo momento vedrete che la mia pagina è leggermente diverso e soprattutto quando uno crea un account all'inizio è ancora più diverso io ho tante cartelle domani potete creare anche voi queste sono delle cartelle tematiche nella quale io ho già messo vedete qui già diverse sync link per il mio lavoro poi i vari sync link che decido di non immettere in una cartella vengono messi qua sotto questa è la prima cosa oggi però noi dobbiamo andare a creare quindi io clicco creare anche qui di nuovo ci sono tante possibilità noi oggi partiamo da immagine ok quindi adesso clicco continuo e oggi facciamo un'altra cosa che è una novità di sync link vado in upload allora normalmente io posso caricare un'immagine dal mio computer da google drive da un altro cloud che si chiama onedrive e qui unsplash di una libreria che mi dà la possibilità di scegliere tra tante immagini di pubblico dominio noi oggi andiamo a disegnare il nostro sync link con canva per questo vi avevo detto inizialmente già di creare l'account tramite il codice nuovo di docente con canva allora qui noi abbiamo il collage quindi io voglio utilizzare il collage l'abbiamo già fatto con alcune classi ma chi non l'ha fatto selezioniamo e facciamo continuo ok adesso si apre l'editor per chi non l'ha mai utilizzato vi suggerisco con pazienza di guardare tutte le possibilità che avete e vedete qui in qua mi dà tanti modelli noi prendiamo il primo e cliccando si seleziona automaticamente per il nostro lavoro andiamo a lavorare con le foto avendo essendosi iscritto tramite il codice del docente il link invito noi abbiamo tutte le foto premium gratuite quindi questa è anche un'altra cosa bella adesso noi scriviamo libertà ecco qua e andiamo inserire si prema la foto e si trascina nel posto dove uno vuole ok e facciamo l'altra parola responsabilità ecco qua allora facciamo l'aver cura della terra e scegliere una via io adesso vedete che ci sono diversi elementi che hanno un bordo un contorno turquoise allora io questi bordi posso volendo anche cambiarli un pochino di dimensione e non solo posso andare sovrascrivere ogni testo questi modelli mi permettono di poter creare una cosa bella e in modo abbastanza veloce libertà e responsabilità adesso vado anche a cambiare seleziono e qui sulla A vado a cambiare colore tra i colori ho la possibilità di utilizzare i colori della foto per quello particolarmente bello qui seleziono di nuovo scrivo qui seleziono questo colore e qui voi dovrete scrivere il vostro nome e poi solo la prima lettera adesso io avrei creato il mio collage visto che si fa molto velocemente il resto del Canva ve lo potete approfondire in un momento libero se vi interessa hai cancellato qualcosa per errore non ti preoccupare a sinistra in alto cerca le freccette accanto alla poivola Canva adesso andiamo a destra in alto e andiamo a salvare queste immagini di Simplink la fa direttamente per adesso però qui devo selezionare Continuo mi chiede di creare una cartella io digito skip perché non mi serve in questo momento e vedete che ce l'ho qui adesso basta che io clicco sopra per poter aprire l'editor però come noi stiamo approfondendo Simplink per la prima volta vi voglio immediatamente dire una cosa quindi qui in alto a sinistra abbiamo il nome del nostro del nostro immagine del nostro Simplink e il nostro nome che abbiamo con l'account se vogliamo cambiare questo posso scrivere adesso per esempio creato da Astrid Salva ok quindi qui su questo io posso ridare un nome dato un nome magari anche un po' originale poi questo quello che è molto importante una volta che io l'ho pubblicato devo cambiare i settings e devo metterlo almeno on listen se no il mio prof non me lo può vedere ok adesso entriamo nell'editor nell'editor ci sono i settings nei settings io posso cambiare i colori eventualmente dei vari tag quindi diciamo lo sfondo del contenuto posso qui vedete il logo sotto di Simplink posso anche mettere una musica di sottofondo volendo attenzione di prendere musiche che non sono protette di copyright e se avete un contenuto con i creative commons di citare l'autore posso disabilitare l'animazione ovvero i tag che si muovono e ci fanno vedere che c'è qualcosa da approfondire in questo momento a me non mi serve adesso però era importante farvelo vedere adesso apro l'editor per poter creare i tagli ho quattro possibilità posso creare il tour il tour vuol dire il passaggio da un Simplink ad un altro ne ho solo uno quindi questo in questo momento non mi serve posso includere vedete questo segno con due braccia un contenuto presente in internet per esempio un video adesso io in youtube vado su condividi e c'è questo link che io copio adesso mi torno qui adesso vado su questo mio contenuto apro adesso qui incollo il mio link e come è un video e lo voglio far vedere all'esterno immediatamente metto questa icona qua e posso selezionare un'icona diciamo che mi sta bene che sia ben chiara sullo sfondo ecco qua allora qui metto questo video quindi ho inserito può essere un video ma può essere anche un altro contenuto tipo un quiz un gioco un wakelet un padlet tante altre cose aggiungo un altro tag adesso qui questo è un testo qui metto semplicemente il compito IRC magari metto anche il mese maggio e 2021 è soltanto per dire che potete inserire un'informazione particolare ma può essere anche un'istruzione quello che volete cambio icona e seleziono l'icona adesso done e di nuovo la posso trascinare magari lo metto qua sotto abbiamo fatto l'embed di un video sappiamo che può anche essere un altro contenuto o tramite codice embed o tramite link possiamo inserire un testo e adesso questo è il tag utilizzato per la maggioranza io vado inserire un contenuto per l'approfondimento immediatamente mi vado in selezionare un'icona e qui io potrei scrivere diverse cose ok e potrei anche in questo tag fare un confronto con quello che è la responsabilità secondo i tre cani dico la mia e poi pongo anche il confronto io posso inserire un link esterno voi vedete adesso che si crea un tasto il tasto io posso dare un nome al tasto ok allora ho scritto male ho scritto tutto giusto e adesso quello che ancora posso fare io posso aggiungere una foto ho fatto prima uno screenshot del video di giovanotti ecco qui vive la libertà secondo la forma del mio screenshot questo è più lungo adesso vi faccio vedere anche un altro screenshot vedete che si riempie diversamente lo schermo si può inserire uno screenshot se ne possono anche inserire diverse vedete che già cambia quindi anche per questo bisogna calcolare un pochino adesso l'ultima cosa che io posso inserire è un audio e lo posso fare tramite un audio registrato in anteprima quindi potrebbe essere di nuovo anche una canzone attenzione copyright e posso registrare un audio un audio provo secondo me la responsabilità è quella libertà di fare ciò che non danneggia le altre persone che mi realizza e anzi che realizza diciamo quel talento che io ho dentro di me per poter dare un contributo al mio contorno ma nello stesso tempo mi rende anche felice quindi posso fare tutto quello che voglio senza danneggiare nessuno anzi magari anche edificando o dando qualcosa agli altri adesso voi vedete che lo sta facendo la prima secondo me la responsabilità è quella libertà di fare ciò adesso io ho fatto danneggia e di nuovo vado a mettere posso anche quindi mettere i miei cangi in modo un po' carino anche così quindi io ho inserito in questo momento tre tag questo è il tutorial completo che vi insegna quindi di come creare un sync link a partire da un collage di canpa direttamente all'interno di sync link spero che vi sia utile adesso faccio danne l'ultimo passo quindi controllare se io in anteprima ho già cambiato i settings della privacy poi copio i link share ecco qua copia e questo lo vado in mettere all'interno di classroom come consegna del compito e questo è un'interno